Silvio Lenares, buongiorno, consulente strategico, tra l'altro insomma con una parentesi perché l'ambito della negoziazione sta sempre più interessandoti in quanto comporta una relazione e come si sa, covid, è in era covid, è in era emergenza, le relazioni hanno subito qualche scossone. Partiamo da qui. Più di qualcuno. Ciao Monica, grazie di questa cosa. Sì, le relazioni sono totalmente cambiate, cioè è cambiato tutto il nostro contesto. Mentre prima ci incontravamo, ci vedevamo, siamo stati diviso a vederci, adesso il nostro spazio della relazione, il nostro contesto di relazione è diventato questo riquadro, dove io ti vedo o non ti vedo, dove la difficoltà dell'interazione, dello scambio aumenta, dove i tempi si dilattano, dove siamo in due ambienti completamente diversi, tu sei nel tuo studio, io a casa mia e così è. Immagina questo moltiplicato per il numero delle relazioni professionali che tu hai. Faccio un esempio, avevo un gruppetto di ragazze, di donne, ma anche belle manager che lavoravano molto bene insieme, a un certo punto aprono l'incontro a un collega che si presenta, loro hanno tutte belle scacciate, molto easy, e il collega si presenta in giacca e cravatta, come se fosse stato in ufficio. E guarda loro e dice, e fa un po' così, però stiamo lavorando, per cui ci vorrebbe un po' di decoro, eccetera. Ecco, immaginati solo questo che tipo di effetto può fare sulla produttività e sul morale, sull'umore di quel gruppo. Quindi sono cambiate le relazioni, ho visto tanti buttarsi in queste nuove relazioni con grande entusiasmo, siamo a casa, sto bene, faccio, eccetera, ma si è perso molto. Si perde il feedback, moltissimo del feedback, si perde la capacità di interagire e questo soprattutto per gli executive, per i dirigenti, insomma per gli amministratori, per quelli che devono prendere decisioni importanti, non avere più quel senso del feedback che gli arrivavano, dei messaggi delle persone, dai non detti delle persone, fa la differenza. Vedo che ha fatto veramente la differenza. Non a caso appunto si dice che sia un'era in cui sotto, insomma, tortura è anche il senso della leadership. Probabilmente bisogna trovare nuovi modi, no? Per affermare una leadership di cui comunque c'è bisogno perché ci sia aderenza. Ma questo non solo relativamente alla comunicazione interna dell'azienda, anche nei confronti del new business e anche nei confronti dei propri clienti. Allora, ti faccio una domanda. Quando tu vai da un cliente, tu immagina di essere, non so, un account, una persona, un'uomo d'agenzia, uno che ha comunque dei prodotti da vendere, dei servizi da vendere. Quando tu vai da un cliente, vorresti che il cliente ti ascoltasse. Giusto? Vorresti che il cliente capisse la tua proposta. Vorresti che il cliente apprezzasse il valore di tutto quello che tu gli stai portando in quel momento. Vorresti che il cliente fosse molto ammirato dalla potenza della tua organizzazione. Vorresti che il cliente avesse tutte, presentasse tutte le condizioni che ti permettono di lavorare bene con lui e di ottenere un grandissimo risultato, no? Per lui, eccetera. E posso andare avanti così per molto tempo. La domanda che ti faccio. Questa persona con questo cliente, di chi si sta occupando? Del contratto, di quello che vuol vendere. Di se stesso. Non si sta occupando del cliente. Ok? Quindi questa modalità, che è, sarebbe bellissimo che il cliente facesse tutte queste cose qua. Questa modalità è la base, il presupposto di un conflitto tra io mi occupo di me e il cliente che non si sente ascoltato. Cioè, che non sente che quella persona lì, che sta dicendo che il cliente è al centro di tutte le cose, lo sta dicendo, ma non lo sta facendo. Sta portando oggetti, sta presentando questa proposta, questa proposta, quest'altra proposta e così via. Ok? Perché vuole arrivare a una trattativa, vuole arrivare a un oggetto. Allora, seguimi perché non so se il passaggio è così chiaro. In tutta questa grande filone della negoziazione, delle trattative, delle cose c'è, è sempre una cornice di conflitto. L'interesse, il prezzo, te la semplifico molto, il prezzo del consulente e il costo per il cliente che vanno in conflitto. Allora, il conflitto tra prezzo e costo esiste da sempre nella storia dell'uomo. Il mercato, io porto un oggetto, per me ha un prezzo, per te ha un costo, si mercanteggia, si creano delle relazioni, succedono. Ma al centro c'è sempre di una trattativa, quindi di uno scontro, un conflitto rituale, ritualizzato. C'è sempre un oggetto. Ma se io sto facendo un progetto complesso, se io mi sto occupando di una trasformazione, se ti sto mettendo a disposizione non degli oggetti, delle cose, dei pesi, ma dell'esperienza, della conoscenza, dello studio, proprio la qualità della relazione, come ce l'hai con un medico, capito? Come potresti averla con un medico. Un consulente, un account, un project manager, un private banker, uno che sa di finanza. Un direttore, un'agenzia che ti presenta. Un direttore, un creativo, un web designer o cosa del genere. Non ti stanno mettendo lì un oggetto, ok? Ti stanno mettendo lì a disposizione se stessi e quel processo che porterà verso delle trasformazioni che tu ti aspetti, che si possiamo aspettare insieme e che spesso io come consulente vedo, ma il cliente non vede, non sa ancora di vedere. Cioè il cliente molto spesso non sa che cosa gli serve davvero. Dice che gli serve un sito, una cosa eccetera, ma in realtà vuole delle vendite. In realtà vuole, dice che gli serve un'azione sull'immagine sua personale, ma in realtà vuole apprezzamento, vuole facilitazione nel contatto con il cliente e cose di questo genere. Cosa che tutti noi, insomma, conosciamo molto bene. Allora, quando avviene questo, nella complessità, quando ha a che fare con la complessità, come faccio ad avere una trattativa sulla complessità? Come si fa ad avere una trattativa sulla complessità? Sai come fanno? Ti fanno fare una proposta. Ti dico, ah va bene, mi mandi una proposta. Allora tu cosa fai? Agenzia, torni a casa, cominci a creare proposte, a mettere insieme, a farle perfette, perché non vuoi che siano giudicate, perché vuoi apprezzare, vuoi far apprezzare, quindi salire di prezzo, il valore della tua immaginazione, della tua creatività. Bene, allora gli fai la proposta, il cliente è a posto, perché ha l'oggetto attorno alla quale fare la trattativa. Allora tu lo spingi verso l'alto e il cliente cosa fa? Molto semplicemente, tu apprezzi e lui? Disprezza. Disprezza. Disprezza, e comincia a dire sì, però vabbè, sì ma nera, proprio nera la volete fare, nera, perché non so, mi sembra un colore un po' triste, e giudica, e usa il giudizio, e vai in discesa, e fa facile, allora tu cosa fai? No, vabbè, no, no, ma, no, ma, no, ma, no, ma. E comincia così, la trattativa. Allora, in questo, i clienti sono bravissimi, hanno gli uffici acquisti, loro ti dicono sì, e dopodiché vai dall'ufficio acquisti a farti massacrare sul prezzo, e quando ti senti massacrato sul prezzo di un processo complesso, senti che è la tua identità che è messa in discussione, cioè disvalore, non è disvalore di un oggetto, è disvalore di una relazione, è disvalore di un baby, di un qualcosa di creativo che tu hai messo a disposizione del tuo cliente. E questo è quello che affligge la categoria dei consulenti, dei creativi, cioè, ma, dei freelance. Sì, ma tu lo sai che, infatti, no, nel nostro comparto, ad esempio, quello della comunicazione, insomma, uno dei temi che sta ritornando molto in auge è quello, insomma, del cliente è re, ma in un senso, cioè, non bello, cosa che, perché in un mercato fatto di troppa domanda, troppo spesso il tutto viene poi banalizzato a livello solo di prezzo e di costo delle proposte, no? Certo, ma ha ragione il cliente, in questa ragione il cliente, è buon divertimento, voglio dire, cioè, nel senso che io l'ho vissuta sulla mia pelle, questo, negli anni 90, cioè, a un certo punto, mi sono detto io non voglio più fare quello che organizza gli eventi, che fa delle cose, eccetera, è pazzesco, mi voglio essere qualcuno che il cliente ascolta. Io voglio dire non a livello operativo di realizzazione, ma voglio essere quello che sa come funziona la parte operativa per accedere a livello strategico. E allora, quando io vado, quando mi presento da un cliente, devo sapere prima chi sono, ma ti sto facendo metà del corso, perché, ecco, ti sto facendo un po' quella che poi sono contenuti di una, devo sapere prima chi sono. Banalmente, l'identità, io chiedo a qualcuno di cosa ti occupi, chi sei, e questo comincia a raccontarmi, io mi occupo di comunicazione, sì, ma questo non mi dice niente, fammi capire cosa fai. Guarda, io mi occupo di campagne, soprattutto in ambito web, e di performance marketing con i sistemi social che si fa. Ma chi sei? Cosa mi stai dicendo? Io non vedo niente. Mi stai parlando da schiavo e mi stai dicendo da quali processi è occupato il tempo che tu hai venduto al tuo datore di lavoro. Tu non mi stai parlando di effetti, di te, non mi stai dicendo di te, mi stai dicendo di processi. E questo si chiama proprio il linguaggio degli schiavi. Quindi si bisogna ricordare tutto a un rapporto tra persone e personalità. Tra persone bisogna togliersi il passaggio da fare oggi, quello su cui sono vent'anni che faccio questa cosa, nel senso che tecniche e tecnologie per negoziare in questo modo, e non per andare a fare trattative, perché quelle siamo capacissime, ci siamo tutti capacissimi, l'abbiamo imparato da piccoli. Diciamo, le tecnologie per negoziare veramente, sono tecnologie per negoziare delle cornici di relazione. Una relazione di fiducia, dove il cliente si sente ascoltato, ma ascoltato davvero, perché io mi sto occupando di lui e non di me. Perché? Perché il consulente vero fa questo. Il consulente vero non si occupa di vendere la sua consulenza. Si occupa di capire esattamente se quel cliente, se quella persona con cui sta aprendo, diciamo, una negoziazione, una relazione, è una persona che ha la capacità, le caratteristiche che gli vanno bene a lui, con cui lui potrà fare un buon lavoro. È un mercato che si muove molto però per gare, diventa difficile. Ok, benissimo, su questo lo so da, sono vent'anni che quindi lo so. Allora, le gare, la dinamica delle gare ormai è accettata, per cui le persone, le agenzie, insomma, le aziende che incontro e le società di consulenza che incontro sono attrezzatissime per andare a fare gare. Quindi fanno delle presentazioni pazzesche, investono soldi, pigliano, fanno eccetera, vincono la gara. Dopodiché c'è il delivery però. C'è da fare il delivery. Allora, molto spesso la gara viene vinta, e poi nel delivery, sì, però, insomma, non, ok, sì, adesso vediamo come fare. Poi c'è imbarazzo nel delivery perché non tutti gli accordi sono stati presi all'interno della gara, perché non c'è una relazione, perché non è un oggetto quello che tu vendi, è un processo. E da quando hai preso il brief, da quando hai presentato la gara, e da quando la gara è diventata un contratto, le condizioni iniziali potrebbero anche essere cambiate. Per esempio il tempo, il tempo di esecuzione. Tempo di esecuzione. Io devo per forza presentare entro il 20 di settembre. Tempo di consegna, per me, per lavorare bene, ho 5 settimane. Ma tu in 5 settimane non mi hai dato il contratto, non mi hai ancora dato l'incarico. Però il tempo di consegna è sempre il 20. Certo. Allora diventa comprimibile, per cui tu hai il contratto sia adesso vediamo, sì, non so, eccetera, le 4 settimane, le 5 settimane, le 8 settimane diventano 5, diventano 4, diventano 3 e dopo devi fare tutto di corsa. Quindi hai costi, stress della struttura e qualità del delivery, che hai compresso. La tua professionalità è svalutata, è data per scontata, ma tanto voi ce l'ha fatta, il cliente è padrone. Un rapporto di padrone, cliente re, dominus, e tu di slave, che operativamente fai. È un mercato, va benissimo, tanti vogliono questo. Tanti vogliono l'agenzia o il consulente accondiscendente, no? Quindi hai loro ordini, che fa sì, sì, tutto. Va benissimo. Colludono, no? È un sistema di collusione. Ma io mi rivolgo alle tante realtà e ai tanti clienti, anche quelli piccolini, dove vanno capiti, dove non ragioni con la gara, no? Non ragioni con la gara. Tanti clienti oggi da far crescere. In un mondo che è cambiato, la vera ricchezza, il vero new business, sarà da gente di cui non ci aspettiamo, non sappiamo che sarà, che cosa succederà. Ok, adesso il mio, quello che è diventato oggi il mio cliente più attivo che ho, era uno che faceva biciclette, uno che fa biciclette. Certo. Biciclette e le fa qui a Padova, quindi in zona Padova, quindi io mi sposto da Milano, vengo qua, perché è l'unico che in questo momento sta lavorando a pieno regime. E anzi, sta progettando, sta programmando, sta accelerando nello sviluppo che avevamo pianificato tempo fa. Io non lo sarei mai aspettato. Quindi, attenzione a cambiare le cose. No, nelle negoziazioni l'importanza dei no, quindi. Dunque, nelle negoziazioni l'importanza del primo impatto, cioè proprio del setting strategico. Allora, diciamo che quelle che oggi chiamano, esistono le trattative e quindi abbiamo capito che è lo scontro prezzo-costo. Queste trattative poi sono state chiamate negoziazioni perché chi faceva i corsi ha cominciato a inserire gli elementi delle tattiche psicologiche desunte dai modelli della psicologia sociale. Quindi prendo la tattica, faccio, dico, metto e quelle le chiamo. Ma sono ancora trattative scontro. Quello che porto ai miei clienti da vent'anni è un setting completamente diverso. Negoziare la relazione prima del contenuto. Questo è il mio motto. Prima io lavoro sulla relazione, sulla cornice della relazione. Dopodiché, in base a quanto sono stato capace di creare una cornice di relazione appunto di vera fiducia, di aver negoziato, di averlo fatto sentire veramente capito, di averlo io capito per poterlo aiutare, per potergli dare la consulenza, a quel punto entra il contenuto. Il contenuto entra con delle formule dove io, come consulente, non sono responsabile di dimostrargli che sono capace. Perché io sono capace. Io non ho una soluzione, ne ho tante. Ma dipendono dalle sue condizioni. Dalle condizioni che lui mi mette. E allora c'è proprio uno schema, un canvas per la negoziazione, che negli anni è diventato uno strumentino, tan tan, proprio quasi matematico. E dove io in 40 minuti porto a casa un accordo. Io prima faccio l'accordo e poi faccio la proposta, che è diverso, capisci che un mindset completamente diverso da quello che viene seguito. Prima faccio le proposte. Ma il fatto che le negoziazioni siano state buone, cioè portate avanti e interpretate nella maniera giusta, ha come risultato la fedeltà del cliente? Cioè la durata dei rapporti? Sì, perché il tuo posizionamento non è quello di for... Cioè tu ti posizioni usando sta parolaccia, ti posizioni nel suo percepito. Tu non sei il venditore di qualcosa, ma tu sei il consulente che si occupa veramente di lui. E allora se tu hai qualcosa da portare a lui, si fa oggetto di... Ma se non hai niente, la consulente dice, guarda, mi piacerebbe veramente tanto aiutarti, però non vedi le condizioni, non riesce a negoziare delle condizioni, potete fare un buon lavoro, gli dici che sei troppo caro, che non gli conviene, gli rivolgersi a qualcuno. Certo che le società delle grandi consulenti, no? Hanno capito queste strategie. Cioè sono forse nell'ambito della consulenza quelle che riescono più a entrare in questo tipo di logica, in questo tipo di sinergia con i loro clienti. Dunque, sì, dopo tempo però. Lo fanno dopo tempo. Allora io ho conosciuto, io ho modellato questo negli anni 90, anzi ancora negli anni 80, osservando dei grandi negoziatori, dei grandi professionisti, dei fuori classe, dei fuori classe assoluti, proprio dell'ascolto, della capacità di entrare dentro le dinamiche, dentro il mondo dei loro clienti, no? Veramente dei maestri pazzeschi. non tutte le società di consulenza lo fanno perché non tutti hanno dei grandissimi campioni di negoziazione in questo senso relazionale. Ti faccio degli esempi. Non so, prendi un grandissimo avvocato capace di grandi negoziazioni. Lui non prende in mano, gli ho visto avvocati, entrare e prendere in mano subito, ah, ne è arrivato questo. A questi cominciano subito a guardare il contenuto di quello, dell'atto o della cosa, no? Per capire cosa. Questo qua, arrivavo e dice, mi ha preso questo. Questo prendeva l'atto, lo metteva così e cominciava a guardare l'atto. Come stai? Come stai? Come questa cosa che ti è arrivata, come ti ha preso? Come va? E come si occupava di lui, della persona, prima che del contenuto. E creava una relazione, io l'ho visto velocemente, un negozatore straordinario, e lo vedevo velocemente entrare in relazione con lui e ci sono temi diversi dalla cosa. Quindi prima lo placava, lo calmava, ci sono qua io. Cioè si metteva in posizione di, ok, prima c'era confusione, prima eri nella cosa, adesso sono cambiate le cose, ci sono io. Fammi capire. E vai di domande, di cose, eccetera. Proprio esplorava, l'ho visto proprio esplorare il mondo di questa persona. E quando si è reso conto delle implicazioni di cosa voleva dire, che si sentiva in colpa, perché dentro questa cosa che gli era arrivata c'era molto della sua responsabilità, quindi del darsi addosso, del giudicarsi, eccetera. Calmava tutte queste cose qua, diceva benissimo, adesso ti faccio delle domande. E cominciava, e poi prendeva in mano le possibilità. Hai tempo, hai voglia, succede questo, hai budget, puoi fermarti, puoi venire con me due giorni, possiamo fermarci, eccetera. Quindi capiva quali erano tutte le condizioni e dopodiché andava a negoziare all'interno di queste condizioni. Allora, lui lo faceva in maniera del tutto spontanea. Tutti quelli intorno a lui continuavano a guardarlo e non capivano che cosa faceva, ma... La domanda che ti volevo porre, insomma, sai, come un po' in tante discipline, ma dal saper scrivere, se uno si occupa, vuole diventare, come dire, eccetera, si dice, sì, ci sono delle regole, però tanto non si impara, no? Tanto è in nato. Anche in questo caso. Tanto è in nato. In questo caso era veramente in nato, ma infatti, insomma, uno, questo, che ho avuto la fortuna, insomma, di osservare, è uno dei nomi importanti, importantissimi, no? A livello, non solo italiano, ma insomma, di queste cose, con una capacità meravigliosa. Sì, è vero, lui è in nato, ma è in nato perché nasce da un, da, un esame, cioè da, come dire, da un mindset, da una sua predisposizione naturale alla relazione. Non è la persona, forse, più competente nella sua materia, ma è quella che ottiene i migliori risultati. Dopodiché ha uno staff di persone super competenti. Ok? Quindi fa fare il lavoro, poi, di ricerca e di cose, alle sue persone, se lo può permettere. E quelle, diciamo, relazioni, negoziazioni, soluzioni, sono molto ricche. Per rispondere alla tua domanda, questo genere è fedeltà. Questo genere è fedeltà. Io ho clienti che mi chiamano, ex clienti che mi chiamano, sottoponendomi problemi di, di, natura assai diversa. Ok? Quindi, dalla, dall'acquisizione di un'attività o l'accessione dell'attività alla relazione con il fratello oppure con, con i familiari all'interno del family business, no? Quindi che cosa, che cosa sta succedendo? Perché in quel momento ci sono cosa devo fare, come devo fare. perché l'imprenditore che è solo, il capo, il leader, è solo, è solo. E non ha tante persone con cui può rapportarsi. E quando queste persone sono consulenti che gli stanno vendendo qualcosa in realtà, che gli vogliono vendere qualcosa, la relazione è ancora così. Sì, cioè, io ho i soldi, l'articolo quinto, no? Quindi, per tornare alla mia domanda, si impara anche a negoziare nel modo giusto? Sì, si impara soprattutto se hai modelli buoni per negoziare. Si impara e ci si addestra e si allena a negoziare. Perché è una cosa che noi non sappiamo fare. Noi sappiamo scontrarci, noi sappiamo vincere, noi sappiamo convincere, noi sappiamo, abbiamo imparato a diffidare, abbiamo imparato le tattiche, stiamo lì a pesare le parole dentro le mail, passiamo le notti a fare le presentazioni perfette perché chissà che cosa cambia se uno trova un errore, capito? Oh, giudizio immediato. Perché si sa, il cliente usa il giudizio per togliere il prezzo, per abbassare, per colpirsi. Ma è in questa epoca che le relazioni, insomma, sono limitate. È ancora più complesso. Esatto, negoziare attraverso Zoom. Si può negoziare attraverso Zoom scardinando i presupposti che, cioè, sicuramente non portando i modi in cui negoziavamo di persona dentro questo mezzo, perché questo mezzo ha presupposti completamente diversi. Infatti, le persone, dopo un po', ma questo gliel'avevo già detto, accusano la fatica di queste relazioni. Accusano la fatica di vedere facce, di non fare riunioni, di non avere il contatto personale, vivo, di avere delle finestre a quadretti con dieci francobolli di facce che non guardano neanche, perché guardano la telecamera, guardano la telecamera e la telecamera è disassata con l'immagine, no? Quindi guardo lì e non ti sto guardando negli occhi e ti dico così, sì, oppure guardo te e non ti vedo. Sì, sì. Capito? Questo, questo tipo di, questo tipo di cose. quindi sono stanchi di non aver feedback, di non capire e c'è una difficoltà ulteriore. Allora, non puoi portare i vecchi modi, devi costruirne di nuovi e li costruisci insieme alle tue persone, cioè negoziando un nuovo modo di stare in relazione con le persone, mettendoci d'accordo su, non so, sull'abbigliamento, sul tempo, sul modo di alzare la mano. Per esempio, con degli, con dei colleghi americani, avevano, avevano un codice per cui alzavano le mani, sei d'accordo? Alza le mani. Se facevi così, non sono d'accordo, ok? Quindi, tu ti d'accordo? Cioè, sì, chi è d'accordo, invece di applausi e roba del genere, si muovevano le mani. Cioè, c'era, ci sono dei codici, no? Ma per tenere vive le persone dall'altra parte, delle, l'altra cosa, davvero, come dire, che mi ha colpito sono questi webinar. I webinar dove bom, 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 e poi le domande, così, basta, basta, finiamola, cioè, fammi vedere cose, cioè, parla, parla, parliamoci, parliamoci, fammi sapere come stai, fammi sapere come vivi. Poi entri dentro casa e non sai se ci sono bambini, se tu hai il tempo di stare lì. Cioè, se per te va bene stare lì, adesso, qui, oltre a un dovere, no? Che ti senti in dovere di darmi l'attenzione. Ma in questo momento magari l'attenzione è la lavatrice che sta perdendo acqua, capito? Perché sei in un ambiente che è completamente diverso. Mentre, prima c'era il tempo dell'ufficio, quindi c'era una scatola di tempo dell'ufficio, c'era la scatola di tempo dove tu facevi colazione e stavi a casa tua. Poi uscivi, scatola tempo, trasporto, spostamento. Poi c'era scatola tempo ufficio. Nella scatola tempo ufficio davi attenzione a tutti e davi attenzione anche a te stessa. Adesso, così, non riesci più a dare attenzione a te stessa. Cioè, in tutto questo tempo, adesso non so, sarà mezz'ora che parliamo, no? Ti sei dovuto occupare solo di me. Se fossimo stati in uno spazio vero, fisico, dovresti potuto fare così, prenderti le tue cose, alzarti, scusati un momento, vai e torni. le persone, ti garantisco, hanno trovato più comodo fare conversazioni auricolari, cioè, chiamiamoci, telefoniamoci. Sì, sì, è vero. E intanto io muovo le mani in giro, perché siamo più abituati alla conversazione telefonica, più produttiva, paradossalmente. Poi ci sono delle tecnologie, ne ho viste, veramente mirabili, molto ben organizzate, molto ben pensate, e questo devo dire ancora grazie agli americani, molto ben pensati, dove appunto usando Zoom, usando lavagne interattive, usando proprio modalità di interazione, dei team che già erano abituati a lavorare insieme, con i post-it, con le cose eccetera, sono riusciti a fare delle cose. Vedo la difficoltà più in persone appunto molto relazionali, in cose molto relazionali, e diciamo nell'executive management che ha come compito quello di essere relazionale. E noi ti ringraziamo, i nostri lettori ti ringraziano, perché avremo trovato spunti sicuramente interessanti. Quindi negoziamo. Grazie mille a voi. Negoziamo le relazioni, non i contenuti. Negoziare le relazioni prima del contenuto, altrimenti finisci a trattative sul contenuto che ti massacrano. Grazie, a presto. Grazie a te. Ciao.